E' amici Svirrioni Torna Radio Svirrienne Finalmente un weekend che ha il sapore di primavera Temperature rialzo, 16 gradi in questo momento E' un weekend che ci aspetta ricco di emozione A partire da domani mattina Per chi vuole una uscita Un ride veloce con Vincenzo Ciancaglione O qualcosa di più impegnativo con Dark Dario E poi ci sarà la domenica ancora tutta da costruire Quindi oliamo le nostre catene Fuori i pantaloncini corti E buon weekend a tutti Ruka, si, si, si Nidia, capterissima Nidia Nidia, Nidia Nidia Oh, cazzo mio Dio A sorpresa quello Bello, bello Oh, cazzo mio Dio 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 No, no, no. 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 Grazie a tutti.